Musica 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 Noi la ringraziamo per la sua presenza, per questa presidenza, in questo giorno festoso per tutta la Chiesa, in questo giorno di pace, la chiediamo questa pace per noi, per le nostre famiglie, per la nostra diocesi, per tutta la Chiesa. Una breve riflessione che voglio portare anche a voi è che chi porta Gesù è un animale, è grigio, è cociunto, è asino, ma porta Gesù. Ecco, anche noi vogliamo essere asini, vogliamo portare Gesù vogliamo irradiare questa speranza così come lo splendido sole di oggi ci illumina e ci incoraggia. benedici questi rami di oliva e concedi a noi i tuoi fedeli che accompagniamo e soltanto il Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del cielo e lì vive e regna nei secoli dei secoli. Amén. Amén. Hosanna, Hosanna, Hosanna all'altissimo Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna all'altissimo gloria, 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 gloria gloria, 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 gloria in redire. rincanziamo il tuo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.